6, 5, 4, 3, 2, 1 Scanzano Ionico entra nel Guinness dei Primati Una grande festa, infatti salutato domenica 28 aprile, la realizzazione della torta di fragole più lunga del mondo Sotto un gazebo lunghissimo, allestito nel centrale Corso dei Gasperi, ha preso forma il prelibato dolce, guarnito di panna e fragole Alla fine i numeri sono da record, ben 60,48 metri, quasi 30 metri in più rispetto al precedente primato che apparteneva alla Francia Ferma da appena 32,24 metri di torta L'iniziativa ha visto il coinvolgimento dei pasticceri locali Salvatore Di Trani, Dolce Voglia di D'Artizio e Rapanaro E Dolci Privilegi di Angelo Corbino, della parrocchia, dell'amministrazione comunale e di numerosi volontari Assieme a loro il gruppo Piraccini II, guidato dal vulcanico Valchirio Piraccini Che ha messo a disposizione quasi 10 quintali di fragole della varietà sabrosa Che hanno condotto Scanzano dritta dritta verso il primato mondiale Nel dettaglio la torta, oltre ad essere lunga 60,48 metri, è alta 11,5 centimetri e larga 40, il doppio del precedente record del mondo Il metapontino si conferma così essere sempre più capitale della fragola Che proprio qui raggiunge livelli più alti per gusto, capacità nutrizionali e qualità Grazie alla costa ionica la Basilicata è al primo posto tra le regioni italiane produttrici Con quasi mille ettari per un aumento del 13% della superficie coltivata rispetto all'anno scorso E circa 49.000 tonnellate di prodotto Dopo le misurazioni di rito, che hanno sancito il nuovo record La torta è stata tagliata e distribuita ai numerosissimi presenti Per una festa dal cuore rosso che ha coinvolto tutta la comunità scanzanese e non solo Grazie a tutti